ed eccoci a un altro appuntamento con italiano per tutti in questa lezione parliamo di una nuova regione italiana perché studiando l'italiano e studiando le regioni si impara a conoscere meglio l'italia ea perfezionare la lingua il trentino alto adige vediamo le sue caratteristiche le sue tipicità e vediamo ovviamente anche le città e la fauna la flora che la caratterizzano l'italia ricordatevi è divisa in 20 regioni sono tutte bellissime ma molto diverse dal nord al sud italiano per tutti vi accompagna alla scoperta di queste regioni e vi fa conoscere meglio il loro territorio le loro caratteristiche fondamentali aiutandovi a migliorare anche la lingua italiana il trentino alto adige che oggi vedremo si trova in questo punto qui vedete bene una regione in questo caso disegnata in giallo ed è la regione più a nord d'italia allora vediamo subito che il trentino alto adige è appunto la regione situata più a nord d'italia questa regione è di fatto composta da due territori o province autonome la parte meridionale cioè questa in giallo è il trentino e prende il nome dal capoluogo che è trento la parte invece settentrionale questa che vedete in grigio azzurro è prende il nome di il nome nominata citata come alto adige è l'alto adige e prende il nome dal fiume adige e ha come capoluogo bolzano l'alto adige si chiama anche sud tirolo perché fino al 1918 cioè prima guerra mondiale apparteneva al territorio del tirolo in austria quindi era un territorio austriaco che l'italia ha diciamo guadagnato al termine della prima guerra mondiale ecco perché in alto adige la lingua più parlata è il tedesco a scuola insegnano il tedesco ed è giusto che sia così perché le tradizioni si rispettano gli abitanti del trentino sono i trentini quelli dell'alto adige sono gli altoatesini il trentino alto adige è una regione interamente moltuosa occupata dalle alpi e dalle prealpi qui troviamo imponenti gruppi montuosi come l'adamello l'ortles il brenta il pasubio le dolomiti che ovviamente sono le più famose conosciute al mondo e ampie vallate come la val venosta la val dinon la val pusteria la val sugana e la val gardena in questa regione ci sono molte aree protette quindi aree parchi naturali sorvegliati e mantenuti come aree protette in cui la flora e la fauna vengono tutelate in pratica e preservate ricordiamo in particolare il parco nazionale dello stelvio è uno dei parchi più famosi d'italia ce ne sono tre o quattro e questo proprio studiato e imparato già dalle prime scuole che si che si frequentano in italia nei primi anni di vita dieci anni di vita ed altri dieci parchi nella regione quindi dieci parchi regionali oltre allo stelvio qui è possibile osservare animali tipici del territorio nel loro ambiente naturale gli stambecchi i muffloni le aquile reali i galli cedroni che sono quelle quello che vedete qui in esempio in foto gli orsi le marmotte e i gufi reali tra le specie protette ci sono anche piante e fiori molto rari come la nemone il ranuncolo la genziana e la stella alpina che è quella che vedete qui in foto è assolutamente vietato ricordo quando ero giovane e andavo in montagna è assolutamente vietato raccogliere le stelle alpine tra i prodotti tipici di questa regione ci sono birre liquori e distillati come la grappa insaccati e carne affumicata tra cui lo speck yogurt formaggi come l'asiago il casolette e il puzzone frutta come mele pere susine da cui si ricavano anche succhi sciroppi e marmellate qui sotto abbiamo una foto della grappa delle delle mele e dello spec che sono prodotti tipici del trentino alto adige con questa slide abbiamo concluso la breve descrizione e sintetica ma completa della regione trentino alto adige successivamente ovviamente vedremo altre regioni spero che vi sia piaciuta se volete altre informazioni chiedete me le ovviamente andate a cercare su wikipedia potrò aiutarvi ad avere più informazioni in proposito vi ringrazio per la vostra partecipazione seguitemi sul canale mettete un like sul canale o sul blog ita per tutti punto blog spot punto com vi ringrazio di nuovo per la vostra partecipazione ci vediamo a presto con nuove lezioni di italiano per tutti ciao